Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono due chilometri di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e rallentamenti tra La Strassigna e Montelupo in direzione Livorno. Sempre in FIPL in direzione Firenze e un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Spostandoci in A1 code per il traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!